Buongiorno, analizzeremo insieme le caratteristiche del nuovo robot Kawasaki KJ-125. Questo robot fa parte della serie K, dedicata al settore della verniciatura. Tutti i modelli di questa serie Kawasaki sono antidefragranti e sono certificati Atex, categoria G2-T4. La combinazione di alte performance operative, un sistema di integrazione facile e una programmazione semplificata porta risultati di verniciatura ottimali. Kawasaki ha sviluppato un design specifico per il robot di verniciatura, con il polso cavo a tre rotazioni. Questo polso dispone di un'area di lavoro più ampia, che permette una maggiore flessibilità nella programmazione. Inoltre, dispone di un passaggio cavo che ha un diametro interno di 50 mm per i modelli più piccoli, come questo, e di 70 mm per i modelli più grandi. Questo particolare polso permette il passaggio di tubi di grandi dimensioni all'interno del braccio robot, prevenendo l'adesione di vernice su tubi e cavi, minimizzando di conseguenza il rischio di contaminazione nella finitura della vernice. Il pannello operatore specifico semplifica il collegamento, l'interfacciamento delle attrezzature periferiche e la programmazione per la verniciatura dei particolari. Il KJ-125 è un robot versatile, perfetto per tutte le applicazioni di verniciatura nel mondo industriale e automobilistico. Il KJ-125 è un robot svettologico, l'interfacciamento delle attrezz interiorismo Il KJ-125 è un bonus di 800 primi. Grazie a tutti.